Allora, buongiorno, noi siamo sulla strada per andare a vedere il giardino dei Tarocchi, ora ci siamo fermati un attimo per vedere questo paesaggio qua, che qualcuno ha fatto la cosa. E niente, ora si vedrà un pochino, si mangerà verso la via, oggi abbiamo presa con calma, eccetera, anche a far colazione ci siamo messi un pochino di più. E niente, poi dopo la visita si va al mare a Ultima Spiaggia, che è troppo bello, che si chiama Ultima Spiaggia, che sarebbe l'ultima spiaggia della Toscana prima del Lazio, ma fa troppo ridere che si chiama Ultima Spiaggia. Ma questa è un'altra storia. Per cui ora continuiamo la strada in questo countryside Toscani Forever e arriviamo lì. Allora, noi siamo arrivati a Pescia Fiorentina, che in realtà è tipo una piazzetta, e siamo andati a cercare qualcosa da mangiare e abbiamo trovato un gatto. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Tanto qui è ganso perché c'è addirittura le colonnine di ricarica, quelle per le macchine elettriche. E ora andiamo a cercare un po' qualcosa da mangiare. Allora, ora il nostro guida ci farà vedere Pescia Fiorentina. Eccola. E' letteralmente questa. E non si cerca a prendere dove dobbiamo andare. Questo sembra un po' il cemento. Esatto. Comunque sono di me quello laggiù, eh. Tornello. E' l'unica cosa e vedo apparecchiata. Vabbè, lo vediamo. Ok, allora noi dopo varie per i Pescia siamo arrivati. Sì, di Pescia. Ha un caldo assurdo. Ma no, 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 no. E niente, abbiamo cominciato il giro. E ora vi facciamo vedere tutto quanto. 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 e ora vi facciamo vedere tutto quanto.